Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con il Milan. Milan.soccer e il Milan in tasca. Bene, oggi è una giornata un po' particolare, perché? Perché questa sera c'è il dentro o fuori, ma vorremmo fare una piccola notazione. Non è un dentro o fuori che ci spaventa, ma è un dentro o fuori che determinerà le scelte del calciomercato di gennaio, ed è quello di cui parleremo. Il titolo ballano 15 milioni. 15 milioni di euro, se si passa il turno, questo è quello che riconosce la UEFA al Milan. 15 milioni di euro che cambiano comunque le sorti di quello che sarà il mercato di gennaio. Lo abbiamo detto, a noi abbiamo bisogno di un difensore centrale, Tomori adattato, Tomori, Romagnoli, Gabbia e adattato Calulù. Troppo poco. Se poi andiamo avanti in Champions League, è praticamente nullo. Quindi questo è il primo dettaglio, altrimenti per il campionato, l'eventuale Europa League e la Coppa Italia, comunque poco. E poi abbiamo l'attaccante. Adesso stanno uscendo nomi, ma aspettiamo domani. Dobbiamo aspettare domani perché dobbiamo vedere se avremo o meno questi 15 milioni. Ieri sera c'è stata una puntata di report, non so se l'avete vista. E ritorno a questo... faccio questo salto anche un po' temporale perché ho una cosa da dire. Noi con le plusvalenze, l'aveva detto ieri Paolo Scaloni, non c'entriamo niente. E infatti la puntata si è, diciamo, incentrata sulle plusvalenze, sulla Juventus, sul Genoa ed altre squadre che sono state eccitate. Poi c'è stato questo enorme sputtanamento verso la seconda squadra di Milano. Hanno parlato di un debito di 900 milioni di euro a fronte di un valore di 300 milioni, di una rivalutazione del loro marchio di 80 milioni, di una rivalutazione del loro museo fotografico di 25 milioni, insomma sono alla frutta. E invece di parlare di come il Milano sta gestendo, abbiamo parlato di una faccenda che riguardava il 2015, il 2016, inerente alla sopravvalutazione degli affitti di Andrea Zoli, mi pare, sì. Siamo proprio al voler, come dire, siccome non potevano non essere citato il Milan, hanno dovuto trovare una cosa di cui sinceramente, come si fa a paragonare delle plusvalenze, far parlare i moggi, far parlare di un sistema, di un sistema che vede veramente alcune squadre sul Baratro e invece poi si è parlato per forza anche del Milan che affitta degli appartamenti ai calciatori e siccome per recuperare un po' di spese affitta, non pagano gratuitamente l'alloggio e poi dice che ci sono delle bollette della luce, dell'acqua gonfiata, insomma ragazzi lasciateli da parte il Milan, stiamo parlando della cosa del 2015-2016, ma non si può paragonare un debito di 900 milioni di euro dell'Inter, la più indebitata d'Europa, insieme a Real Madrid e a Barcellona se non vado errato, non si può parlare delle plusvalenze e poi di Andrea Zoli che, mi caspita, si chiamava quel giorno, ma per favore ragazzi, lasciate stare, 2015 tra l'altro. Ho voluto citare questo perché i 15 milioni che eventualmente la Champions League ci riconoscerebbe comunque vanno sempre di più a rappresentare un diminuzio del debito che Berlusconi e i suoi amici cinesi ci avevano lasciato. Il Milan oggi è una società sana e questo è quello che conta, per cui nulla a che vedere con la seconda squadra di Milano che è la più indebitata d'Europa. Cosa succederà? A noi non ci interessa nulla, a noi quello che ci interessa è il Milan. Il Milan che purtroppo continua ad avere il suo toccaferro perché la maledizione del toccaferro continua, ancora un infortunato, questa volta è il Leao, poi la sera è venuto fuori che Teo Hernandez aveva anche il raffreddore, non lo so cosa ci capiterà stamattina, probabilmente Magna avrà le morroidi e non so chi, magari Krunic avrà il mal di denti, quindi non lo so, su questo poco mi interessa, ma dobbiamo dirlo che 13 infortuni muscolari sono veramente tanta roba, tanta roba, Calabria, Chier, Romagnoli, Kessi, Krunic, Castieco, Messia, Rebic, Leao, Giro e Pelle, siamo veramente al delirio, altri 11 sono stati fermati per traumi o infortuni traumatici e gli unici a non aver subito nessun tipo di problema sono Tatarsano, Calulù, Gabby, Tonale e Salema Kerr, questo tanto per renderci conto qual è effettivamente il clima. Stasera Milan-Liverpool, Milan-Liverpool alla scala del calcio, canta Milan, intitola oggi la gazzetta dello sport, noi siamo abituati a queste notti, è la nostra notte, Klopp dice di schierare un Liverpool rimaneggiato, noi caro Klopp non ti ringraziamo perché noi siamo il Milan e noi vogliamo giocare da Milan come sa fare solamente la squadra dopo il Real Madrid più titolata al mondo, in questo caso è per molti anni la più titolata al mondo. È vero che lui ha 5 partite in 14 giorni, qualcuno farà riposare, ma insomma il nostro buon Dio ha pensato di far riposare anche i nostri che comunque sono infortunati ed è dire poco. Tornando alla questione di stasera, clamoroso, 57 mila spettatori, tutto esaurito e chiaramente non serve neppure dirlo che i 57 mila sono a causa del Covid perché ci fossero stati 100, 200, 300 mila, avremmo avuto il 100% della copertura dello stadio, un popolo rosso-nero fantastico, un popolo rosso-nero unico, un Milan che sa essere all'altezza di queste notte. Forza ragazzi, stasera siamo tutti con voi, giocate, giocate come sapete, giocate per quello che è il valore della maglia che indossate, noi saremo in campo come voi da quest'altra parte e non ci resta che aspettare. Chiudo dicendo che chi vuole può acquistare il libro ma tu ami più me o il Milan in cui ci sono tante novità, informazioni, curiosità, leggende e poi si gioca. 50 domande dedicate al Milan, quante ne risponderai? E poi 50 domande dedicate alla coppia, ami più me o il Milan? Risponderai più a domande dedicate al Milan o a quelle del tuo compagno o della tua compagna? Bene ragazzi, forza Milan e vi voglio bene. A presto!